Un'occasione di incontro, confronto e informazione, quella andata in scena all'Isis Newton di Varese che per un'intera giornata ha aperto le porte a famiglie e ragazzi intenzionati a conoscere più da vicino la variegata proposta didattica ai docenti dell'istituto. Ad accoglierli il dirigente Daniele Marzagalli. La nostra scuola ha la fortuna di avere un altissimo tasso di efficacia ed efficienza diplomando studenti che nella maggior parte dei casi entro il primo anno riescono a ottenere un importante lavoro e quindi un primo contratto non sempre a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato e quando a tempo determinato è un contratto veramente gratificante. Siamo anche fortunati perché i nostri studenti che lavorano possono mediamente recarsi sul posto di lavoro a 8-9 chilometri da casa, dati eduscopio 2019. Infatti Fondazione Agnelli ha registrato l'eccellenza del nostro istituto anche per quest'anno in linea con i dati degli anni scorsi. Insieme al paressi della sua vice Paola Monfrini, la collaboratrice Laura Frascoli nonché gli altri insegnanti cui fanno riferimento le tante materie che costellano l'orizzonte formativo del Newton dal settore tecnico e tecnologico a quello professionale dall'indirizzo prettamente manifatturiero a quello legato al terziario senza tralasciare i corsi serali riservati agli adulti. Rete55 ringrazia Cristian Sette per le interviste e i contributi video.